Racket, siamo ancora molto omertosi, sono i dati dell'ultima rilevazione Istat. Meteo arriva il settimo, gran caldo. Allarme col diretti su uova contaminate e fobia nazionale. Operazione anti-bracconaggio, sequestrati 570 volatili. La canzone persiso alla colonna sonora del festival del jazz di Roccella. Benvenuti, giornale di Telemia. Cominciamo dall'ultima rilevazione Istat che pone ancora la Calabria in novetta alla classifica per quanto riguarda il racket. Il racket in Calabria non è esattamente calcolabile, il motivo in pochi denunciano. Parlano chiari i dati elaborati dall'Istat. Tra il 2010 e il 2015 le denunce per istruzione sono aumentate quasi in maniera impercettibile. Solo il 17% circa a fronte di un 64,2% nazionale. Troppo poco se paragonate alle altre regioni del sud, in testa Molise, la Puglia e la Basilicata. Aumentano invece in maniera netta le denunce al nord. I più coraggiosi infatti sono proprio all'altra estremità del paese. Siamo i più mertosi forse perché dovremo imparare a fare di più e ad essere più credibili come istituzioni. È stato il commento del procuratore antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenuto sui dati resi noti dall'Istituto Italiano. Qui in Calabria, continuato, il rischio è alto e la differenza la fa proprio l'Andrangheta, che ormai ha la fama di essere l'organizzazione mafiosa più potente. Tuttavia, Gratteri, non manca di essere ottimista. I calabresi possono cominciare a fidarsi di noi, afferma, perché stiamo facendo tante operazioni. Nuove regole, invalidità civile, ci penserà d'ora in avanti l'Inps, in che maniera le modalità spiegate in questo servizio da Nicodemo Barillaro? Dal 1 settembre per un anno sarà l'Inps, in via sperimentale, a svolgere le funzioni di verifica relativa all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, così come stabilito dal decreto commissariale 86-2017 dello scorso mese di maggio. A stabilirlo è stata la seconda sezione del Ter Calabria, presidente Nicola Durante, giudici Giovanni Iannini e Germana Lo Sapio, che ha così respinto il ricorso presentato dalla Regione Calabria, difesa dall'Avvocato Giuseppe Naimo contro l'Inps, direzione regionale Calabria, avvocati Maria Teresa Pugliano, Angela Maria Laganà, Nicola Valente e Ettore Triolo, il commissario ad Acchita alla Sanità Massimo Scura, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale e contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero delle Economie e delle Finanze non costituiti in giudizio. Un ricorso con la quale la Regione Calabria si opponeva al decreto commissariale 86 sottoscritto il 26 maggio da Scura e dall'allora sub i commissari urbani, con il quale viene approvato un protocollo di intesa sperimentale tra l'Inps e la Regione Calabria per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e handicap e disabilità fino a questo momento spettanti alle commissioni mediche di tutte le aziende sanitarie regionali. Una sperimentazione che rientra nell'ottica della semplificazione delle procedure a favore dell'utenza e di contenimento dei costi delle attività delle commissioni mediche gravanti sul servizio sanitario regionale. E la fobia del momento, uova contaminate in giro per l'Italia. C'è anche un allarme lanciato in Calabria dalla Coldiretti. Le uova contaminate al Fipronil, un insetticida che normalmente viene usato contro pulci, acari e zecche negli animali da compagnia e proibito per gli animali da consumo che non dovrebbero mai entrare in contatto con l'essere umano, hanno coinvolto il Regno Unito, il Belgio, l'Olanda, la Germania e la Francia. È fondamentale per Coldiretti, che interviene attraverso una nota stamane, fare attenzione nell'acquisto e leggere le indicazioni sul guscio delle uova di gallina. Il codice riportato con il primo numero consente di risalire al tipo di allevamento, 0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie. La seconda sigla indica invece il paese d'origine, ad esempio IT Italia. Seguono poi le indicazioni relative al codice ISTAT del Comune, alla sigla della provincia e infine il codice distintivo dell'allevatore. Proprio in queste occasioni si comprende di più l'importanza delle indicazioni di origine che dà certezza al cittadino consumatore e che afferma Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria, dovrebbe essere garantita su tutti i prodotti agricoli. Invece ci troviamo con un'Europa ancora incomprensibile, titubante, che continua a ritenere l'origine obbligatoria su tutto il cibo una distorsione commerciale e non un dovere. In Calabria il consumo medio pro capite di uova è di 247 all'anno, con una produzione regionale di circa 75 milioni di uova in allevamenti specializzati e circa 24 milioni di uova in allevamenti rurali per autoconsumo. Quindi importiamo da fuori regione circa 79 milioni di uova di gallina annui. Cioè il 44% di quello che consumiamo. È un comparto che ha performance di crescita soprattutto nelle aree interne. Scegliere quindi prosegue Molinaro le uova prodotte in Calabria e in Italia significa maggiore sicurezza alimentare. Gli allevatori calabresi hanno e stanno investendo molto nella qualità della produzione, partendo dal benessere animale fino alla selezione di cereali utilizzati nell'alimentazione delle galline. Una ragione in più per rafforzare la sicurezza alimentare e non rinunciare alla difesa del Made in Italy in Europa e nel mondo con accordi scellerati come il CETA che rischia di annullare in modo particolare i primati dell'agricoltura italiana. Per la friscura bisognerà attendere probabilmente delle prime giornate di settembre. In arrivo la settima ondata di gran caldo. Torna il gran caldo sull'Italia. Dopo un paio di giorni freschi e miti dal clima estivo ma gradevole, da oggi le temperature hanno intrapreso una nuova risalita, più palpabile nelle zone interne del centro nord e in alcune aree di Sardegna, Sicilia e Calabria. I valori più elevati sono stati di 33 gradi centigradi registrati proprio a Reggio Calabria. Temperature elevate nonostante gli annuvolamenti sparsi che oscurano il sole in varie località nel cuore del nord e all'estremo sud tra Calabria meridionale e Sicilia. Da domani le temperature aumenteranno ovunque di 2-3 gradi al giorno fino al weekend. Sarà un'escalation di caldo molto preoccupante per le due grandi emergenze ambientali di questa stagione in Italia, ovvero gli incendi e la siccità. Entrambi determinati dalla cattiva gestione del territorio ma scatenati dalle eccezionali condizioni climatiche. La nuova ondata di calore sarà provocata, come le precedenti, dalla risalita dell'anticiclone subtropicale. Un nuovo gobbo di Algeri sbufferà il caldo del Sahara sull'Europa meridionale, centrale e orientale, mentre farà più fresco con forte maltempo tra la penisola scandinava e isole britanniche e il settore più occidentale della penisola. Un assetto sinottico che si prolungherà a lungo, almeno fino ai primi giorni di settembre, che saranno i più caldi con punte di 41-42 gradi in varie località del paese. Insomma, sarà una nuova ondata di caldo infernale. Le ultime tappe confermano questa proiezione. Anche l'inizio dell'autunno meteorologico sarà condizionato dal caldo esagerato e, ancora una volta, dalla siccità. Alle tartarughe non piacciono i fuochi. Abbiamo titolato in realtà a chi si occupa delle carette e carette, soprattutto della nidificazione in atto sulle spiagge calabresi e della ionica in particolare, i fuochi artificiali provocano tanti danni. I fuochi artificiali, oggi più che mai, sono il simbolo delle feste patronali che si susseguono, specie nel periodo estivo. In Italia rappresentano una tradizione berradicata che, soprattutto nelle regioni del sud, con Calabria in testa, sembrano scatenare delle vere e proprie gare pirotecniche tra i comuni. Ormai, però, è scientificamente dimostrato che questi giochi hanno effetti negativi su animali domestici, fauna selvatica e addirittura anche per la salute dell'uomo. A causa delle polveri sottili che scaturiscono durante la detonazione, gli animali domestici più delle volte impazziscono e rischiano di subire gravi conseguenze con traumi generati proprio dalla paura. Ancora peggio accade agli animali selvatici, soprattutto agli uccelli, che a causa delle esplosioni, quelli che non muoiono sul colpo per infarto, scappano via in completa assenza di visibilità, trovando poi la morte in seguito a impazzi con case, lampioni, automobili, eccetera. A risentirne, poi, sono soprattutto le tartarughe marina caretta caretta. Per tutta questa serie di motivi, molti hanno proposto così di vietare i fuochi d'artificio durante la stagione estiva, ovvero quando le uova di tartaruga si dischiudono. Il problema serio, infatti, per le tartarughe è il rumore dei fuochi, che in Calabria si usano molto spesso anche per festeggiare matrimoni e celebrazioni varie, e che spaventerebbero morte tali creature. Nonostante i più resti, in tanti confidano nel buon senso dell'uomo e che finalmente si inizia ad imparare il rispetto per le specie più indifese delicate che vivono nel nostro pianeta. Dei cuccioli di tartaruga valgono decisamente qualche fuoco d'artificio in meno. Continui attacchi dalla minoranza alla maggioranza e in particolare rivolti al primo cittadino del luogo Fuda. Siamo a Siderno e occupiamoci dell'incandescente situazione politica. Il fuoco incrociato che si sta concentrando sulla maggioranza politica locale guidata dal sindaco Pietro Fuda non sembra impensierire più di tanto il primo cittadino e quelli che in senso ironico vengono definiti i suoi colonnelli. L'ultimo attacco è arrivato dall'ex consigliere di maggioranza, adesso gruppo misto, Vincenzo De Leo. Il sindaco Fuda e compagni in più occasioni hanno sottolineato che alle polemiche preferiscono rispondere con i fatti. E i fatti, come non perdo occasione di evidenziare lo stesso Fuda, in ogni incontro pubblico parlano da soli. Sono le opere pubbliche che dopo anni di fermo assoluto sono state realizzate e che si possono mettere sul tavolo della discussione, offrono le migliori risposte, secondo la maggioranza, a quelli che ormai vengono considerati detrattori a ogni costo e che anche di fronte all'evidenza continuano a puntare l'indice sull'amministrazione comunale. Un'amministrazione comunale, aggiungono Fuda e compagni, che se poi, come più volte è stato evidenziato, Siderno uscirà dallo stato di dissesto, avrà anche le carte in regola per far fare altre considerazioni positive sulla capacità di un'aggiunta che, dopo il lungo stato di abbandono e la cronaca carenza economica che la città ha vissuto per tanti anni, non poteva certo fare miracoli in questo breve lasso di tempo dal suo insediamento. Da un lato dunque si spara a zero e si parla di cronaca insufficienza e totale mancanza di capacità, dall'altro si rivendica grande senso di responsabilità, impegno concreto e notevole capacità progettuale. Due posizioni nettamente distinte che per certi versi disorientano la stessa opinione pubblica sidernese e che sono troppo distanti per dare totalmente ragione agli uni o agli altri. Così anche i cittadini sidernesi restano frastornati dalle continue polemiche che si leggono sulla stampa e soprattutto sui social che nei giorni scorsi hanno provocato anche un acceso botte e risposta tra il movimento politico, fattore comune, e il fratello della segretaria politica del Partito Democratico. Festival jazz giunto alla capolinia, quello di Roccella Ionica, ovviamente una quarta serata al teatro al castello partecipata e con musica di grande qualità. Questa sera la chiusura, ma facciamo un piccolissimo bilancio della serata appena conclusa e vediamo poi cosa compete per la conclusione di questa sera. È stata la Mad Free Orchestra ad infiamare gli animi ieri al Roccella Jazz Festival, giunto alla 37esima edizione, in compagnia dell'orchestra alla tastiera Seid Mangiaracina, talentuosa interprete e compositrice che vanta grandi collaborazioni tra cui Fabrizio Bosso, Simona Molinari, Massimo Moriconi, Giovanni Tommaso. È stata in turni più importanti teatri e festival italiani come l'Umbria Jazz, Auditorium Parco della Musica, Album Note di Milano e di New York e ancora al Teatro e Strada di Mosca. La Mad Free Orchestra è un esempio di musicisti provenienti da Mezzomondo con un sound potente e riconoscibile nel live che ha fatto ballare gli amanti del genere presenti a Roccella Ionica per assistere al concerto unico e coinvolgente. Le tematiche trattate nel live del gruppo musicale, tra i più gettonati del settore, sono stati lavoro, donna, migrazioni, scuola, insomma, in perfetta linea con il filo conduttore della manifestazione roccellese. Con trombe, fisarmonica e cora, la Mad Free Orchestra ha portato colori e suoni dal sapore del Mediterraneo, con incursioni in inglese, nei dialetti del sud Italia, ma anche in portoghese e senegalese nella cittadina Ionica. Questa sera gran finale con un trittico da non perdere, l'inside, jazz, quartet, i tracan, zanchi, colombo e brandascio. Il quartetto, co e il second time, guidato da Claudio Koyanitz. Infine la prima europea davvero attesa di Jonathan Finlast e Sisyon Defense, il giovane ma già quotatissimo trombettista californiano. Sono nessuno, 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 sono nessuno, 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 queste parole non sono perle, non sono sagome di ricordi. Rischio la pelle l'unica che ho per affidarmi al mare, madre, madre, tu mi hai scolpito, ora mi vedi morire. Sono un nemico per la tua pace, sono un fastidio per la tua giornata, sono una mano che si aggrappa e poi sprofonda, sono un tumulo di sasso, una porta sfondata. Nessuno, 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 una canzone per Sisyon, la nuova produzione discografica farà il giro del mondo e porterà il nome della Calabria del Festival di Rocella Ionica in tutto il mondo. Un video, quello realizzato con immagini della nostra emittente telemia. Claudio Donà, un'avventura questa con Sisyon della casa discografica Caligola di Venezia, un'avventura, dicevo, perché è la sua prima produzione video che realizzate e avete inaugurato proprio con Rocella. Siamo doppiamente orgogliosi e soddisfatti, prima perché è il nostro primo DVD, dopo 230 compad disc, dopo 24 anni, questo, il numero 231 è un DVD e poi perché, oltre ad essere un gran concerto, c'è uno dei nostri musicisti di riferimento da anni ormai dell'etichetta, Claudio Kojanitz, oltre che un grande musicista, un amico e quindi è stato doppiamente per me bello e entusiasmante lavorare su questo progetto. E con la voglia anche di immortalare quella che è stata una produzione originale, è nata anche, diciamo, per ricordare una persona, il senatore Signo Zito, che non c'è più e che ha dato l'anima e non solo, anche economicamente, tanto a questo festival che ora invece sta raggiungendo, ha già raggiunto il livello, voglio dire, ma ora si sta consolidando e quindi una macchina anche, diciamo, artistica, organizzativa che andrà avanti, anche i finanziamenti regionali e statali hanno garantito la continuità. Ma tutti gli appassionati se lo augurano perché Rumori Mediterranei è un punto di riferimento del jazz italiano, lo è stato, 37, mi pare, edizioni, no? Quindi voglio dire che pochissimi altri festival hanno una storia così lunga e importante. Io sono stato qui qualche volta, anche quando, nella mia prima vita, facevo anche il critico, ma sì, adesso lo faccio il punto di riferimento. Quindi l'ha seguito da critico? In due edizioni, negli anni 90, mi pare, non ricordo gli anni esatti, però sono passato qui perché scrivevo per musica jazz e, insomma, era uno dei festival estivi e una volta mi hanno commissionato la recensione del festival, quindi lo ricordo con affetto. Kojanitz, io so che sei innamorato di questa città, di Roccella, tant'è vero che addirittura pensavi di trovare casa, è così? Sì, sì, ho trovato. Ah, già trovato? Sì, sì. Comincio fra una settimana perché mi sposto adesso a Napoli per questioni mie, ma col primo settembre sarò Russejoto. Quindi un cittadino onorario. Russejoto, ho detto. Questo l'ha imparato benissimo. Allora, è un concerto straordinario, lo attestiamo tutti, è stato emozionante, è stato bello, è stato immortalato e ora questa presentazione di questo DVD che, anche se ancora i supporti, come diceva il produttore, cominciano ad essere non più di moda perché ormai con la rete si scarica tutto e da tutto, questo DVD verrà lanciato e nel territorio rimarrà un ricordo anche fisico, possiamo dire così, di quello che è stato quel concerto e a chi era dedicato. Sì, ma a questo proposito, visto che certe cose sono già state dette, io vorrei sottolineare e riprendo un concetto inconsciamente espresso da mio grande amico Donato sulla prima e seconda vita. Direi che ci tengo a sottolineare questo. Il festival di Locella ha e sta avendo una seconda vita, che io chiamo la rinascita di questo festival. Il Locella Jazz Festival è un grande evento anche turistico, prima di tutto culturale ma anche turistico, ma la metafora che vorrei usare è questa, il jazz è una musica inclusiva, sa includere, quindi mi auguro che tutte le intelligenze che sanno includere siano presenti in Locella e auguro al festival, naturalmente lunga vita, ma soprattutto a questa rinascita che va davanti. Ora Coglianese ha detto tutto, non so cosa vogliamo aggiungere Vincenzo Stagliano, perché ce l'abbiamo qua il direttore artistico. Ha detto praticamente tutto e ha parlato anche da Ruccio Ioto. Sì, 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 ormai è un Ruccio Ioto a tutti gli effetti, Claudio Coglianese. Ma non solo lui, adesso c'è una comunità veneto-friulana, Roccella, che è stata adottata grazie al jazz, si tratta di collaborazioni. A me piace il sud, mai titolo più appropriato. A me piace il sud, passiamo da una lobby romana a una lobby veneto-friulana, che fa pure lì, ma no, forse è meglio così. Io vorrei sottolineare anche un altro aspetto che ritengo molto importante, cioè un prodotto locale, anche se c'era un gruppo friulano diretto da un compositora, un musicista friulano, è andato a finire in un DVD che genera il mondo. E questo DVD l'avete, non il DVD, le riprese le avete fatte voi. Lui non poteva dire niente, lo dico io, le riprese del DVD sono di telemia, poi sono state rielaborate in studio da Caligula, rifatte in un certo modo, però c'è la mano alla base di telemia. È una cosa che non faccio mai, però sprutto quest'occasione per farlo, quello di invitare tutti a comprare questo DVD, ma no, non per i soldi, solo perché è bellissimo. Cioè chi lo comprerà avrà un gioiello in mano e avrà un valore infinito, perché queste cose poi durano e acquistano in un certo senso anche una proprietà particolare, perché chi ce l'ha si approprierà di un'idea, di una situazione molto bella. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Bentornati in seconda parte del Tg, andiamo alla valorizzazione che si farà con tutta una serie di manifestazioni che sono già cominciate al centro storico di Gioiosa Ionica. Questa sera siamo qui per un nuovo appuntamento che rientra nelle iniziative del progetto La cultura al centro storico. È un progetto che ha visto l'avvio quasi un anno fa e mira alla valorizzazione del teatro al castello, che è un bene architettonico di grandissimo valore artistico, storico, culturale, si trova proprio nel cuore del centro storico di Gioiosa Ionica. Questa sera è una prima assoluta questa manifestazione che abbiamo voluto chiamare percorsi di emozioni al castello, degustazione di vini, birri artigianali, ma anche tanta musica, arte, storia, prodotti tipici, prodotti slow food e soprattutto prodotti che provengono dai terreni confiscati alle mafie, quindi sono i prodotti delle cooperative di Libera Terra. È possibile all'ingresso prendere un calice con il quale fare tutte le degustazioni e poi gli assaggi durante il percorso. Durante tutta la serata ci sarà il concerto dei Larmandu Catrichi. Inoltre all'interno del teatro al castello è stata allestita una mostra fotografica curata dalla professoressa Marilisa Morrone sulla storia del castello pellicano e una mostra fotografica invece incentrata sul centro storico, sul borgo di Gioiosa Ionica, una mostra curata da Frank Armocida. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le arti. Ci sarà un reading di letture che durante il cuore verrà spiegato il motivo per cui Gioiosa si chiama così. Il nome Gioiosa è legato al romanzo di Tristano Isotta perché Tristano, una volta espugnata a una città che si chiamava Dolorosa Guardia, che ora è una città molto bella, viene descritta in maniera molto suggestiva, chiama questa città Gioiosa Guardia e quella città sarà proprio la città in cui lui andrà a vivere insieme alla sua amata Isotta. Quindi un gusto molto romantico, molto suggestivo che ci ricorda il motivo originario per cui Gioiosa si chiama così. Dobbiamo ringraziare il professore Naimo, il circolo di studi storici Le Calabrie, ma anche il gruppo teatro Grotteria Onlus e anche Battente Italiana, oltre che naturalmente l'associazione Don Milani, che è l'associazione capofila del progetto. È una serata molto partecipata, abbiamo avuto finora oltre 200 presenze, ma continua ad arrivare gente, quindi siamo molto felici perché questa prima edizione si sta rivelando un successo e quasi certamente cercheremo di riproporla anche negli anni a venire. Vorremmo migliorarci di anno in anno facendo l'entrata diversamente, iniziando dal palco di ferro, quindi piazza per Biscito, per arrivare al castello e dal castello poi scendere attraverso la portafalza con più produttori locali, con più anche artigiani locali, in modo che il centro storico possa avere quella risonanza che anticamente aveva. Don Milani, come con i nostri partner, ci stiamo attivando anche attraverso percorsi di teatro e di musica. Sono 570 gli esemplari che sono stati liberati, c'era in atto un autentico bracconaggio in alcune zone della Calabria, sentiamo quali. I militari della stazione Carabinieri Forestale di San Roberto, dipendente dal gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, hanno effettuato in contrada lupina di Villa San Giovanni un'operazione anti-bracconaggio. I carabinieri sono stati allertati dai volontari dell'Associazione Guardia per l'Ambiente di Reggio Calabria. RF, di 69 anni, con precedenti specifici, è stato pertanto denunciato a piede libero per i reati di ricettazione, maltrattamento e uccisione di animali e per la violazione della legge sulla caccia, in quanto deteneva illegalmente, in un casolare di campagna nella sua disponibilità, al fine di porli successivamente in commercio circa 570 esemplari di avifauna selvatica protetta. Si trattava in particolare di esemplari di cardellini, verdoni e fringuelli, tutti appartenenti alla famiglia Fringilliade e rigorosamente protetti dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva Uccelli, detenuti in 11 gabbie non idonei alla loro caratteristica e quindi alla loro natura. Purtroppo, per 20 di essi, si è dovuto constatare il decesso. I rimanenti 550 esemplari posti sotto sequestro unitamente alle gabbie sono stati liberati e rimessi in natura su disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Si stima che la vendita degli esemplari di avifauna illegalmente detenuti avrebbe potuto determinare un profitto di circa 20.000 euro. Il gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria invita la popolazione a segnalare eventuali azioni in danno della fauna al numero di emergenza ambientale 1515. A Vibo una vasta piantagione di canapa è stata sequestrata. Bruciato il raccolto, sentiamo sull'operazione delle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Sante Eufemia ad Aspromonte, in sinergia con il personale dello squadrone aliportato Cacciatori Calabria e del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio in area boschiva, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Palmi, diretta dal capitano Antonino Spinnato, hanno tratto in arresto Fedele Vincenzo, 38enne del luogo, noto alle forze dell'ordine, poiché in un fondo agricolo di sua proprietà Situ, in Sante Eufemia ad Aspromonte, con trada a Meladoro, località Ficarazzi, veniva rinvenuta una piantagione di estensione pari a 100 metri quadrati, composta da circa 170 piante, verosimilmente del tipo cannabis indica, di altezza media di circa 1,50. Il peso complessivo, in chilogrammi, è di 68, il perfetto stato vegetativo unitamente ad attrezzi agricoli vari e ad un impianto di irrigazione in pieno stato di efficienza, collegato illecitamente alla pubblica rete idrica. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato della droga illeciti profitti sino ad un importo di circa 100.000 euro. Le piante, previa campionatura, sono state distrutte sul posto, mentre i campioni prelevati su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi a Eris di Messina. L'operazione odierna si inserisce nel piano di controllo straordinario del territorio, predisposto dal comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza, ove permarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata di domani. Ancora feste popolari, patronali, andiamo a seminare e vediamo le immagini qui della celebratissima festa locale. Oggi a Seminara si respira aria di festa in quanto la festa del Santo Patrono, però allo stesso tempo è un momento di sinergia con la raccolta degli altri sindaci dei comuni della città metropolitana. Oggi si respira aria di festa perché è festa. Oggi per noi siamo resi il giorno della massima espressione religiosa e la festa della nostra Madonna dei poveri. Quindi per noi è un giorno di raccoglimento nella fede e nel ricordo di quella che è la nostra storia, la nostra tradizione, in questo caso religiosa ma anche civile. In occasione di questo appuntamento, come ogni anno, ho voluto che i miei colleghi sindaci fossero presenti per onorarmi con la loro personalità, con la loro presenza e quindi un modo per rafforzare ancora di più i vincoli che tra noi istituzioni ci sono su questo territorio. In questa giornata di festa a Seminara, dove si raccolgono i comuni e la città metropolitana, non potevamo non avere il vice sindaco di Reggio Calabria. Sì, fa davvero piacere. Le feste di agosto sono un'occasione per conoscere ancora meglio i territori e anche per noi amministratori. Ieri sono stato a Tauria Nova, l'altro giorno a Bagnara, oggi a Seminara. Fa davvero molto piacere anche perché Giovanni Piccolo è un amico per cui fa ancora più piacere essere qui presente oggi. Un appuntamento che crea sempre di più una sinergia per la conduzione di questa città metropolitana allargata che speriamo possa andare avanti con un fattore importante. Sì, sono i primi sei mesi. Molto deve essere fatto. Noi parliamo spesso di sentimento metropolitano perché il compito dell'istituzione è anche far capire ai nostri concittadini quello che è una città metropolitana. È una comunità diversa rispetto all'ex provincia, fa riferimento a norme diverse, ma ribadisco ciò che serve un sentimento metropolitano e credo che a poca cuovo questo potrà avvenire. Successo della rappresentazione teatrale con Enzo Colacino e Gregorio Calabretto organizzata dall'associazione Dietro le Quinte, siamo al teatro a Bivonci. Affittasi Cognati è un testo di Gregorio Calabretto che ha diretto anche lo spettacolo con una punta di diamante come protagonista che è Enzo Colacino. Quindi questo spettacolo avrà una caratteristica particolare di avere due dei maggiori artisti di teatro calabresi, Gregorio Calabretto e Enzo Colacino. Sono due cognati disoccupati, quindi sono due amici disoccupati che si fingono cognati per poter avviare un'impresa, un nuovo lavoro e questo li porterà a combinarne delle belle a casa di un signore, di un ipotetico ingegnere che si rivolge alla loro agenzia per verificare se ci sono i requisiti per vincere le imminenti elezioni comunali nella città di Catanzaro. I due cognati mi pare, se non sbaglio, sono Gregorio Calabretto e Enzo Colacino. Gregorio Calabretto da regista si avvale di Enzo Colacino. Sì, ci siamo incontrati in un momento poco fortunato della nostra vita, perché io uscivo da un episodio un po' triste, visto che avevo avuto un urgente bisogno di fare ricorso ai nostri bravi medici di Germaneto, lui ha avuto più o meno lo stesso episodio, ci siamo incontrati e abbiamo detto perché non priviamo a vedere se riusciamo a divertirci assieme. Secondo te cosa manca al teatro calabrese per decollare? Forse non è che manchi qualche cosa al teatro per decollare, più che altro c'è non tanto più la passione di fare teatro per fare teatro, quanto fare teatro per fare soldi. Se vince la cassetta non hai l'impegno di fare ricerche su quello che è il dialetto, su quelle che sono le tradizioni. Purtroppo la presunzione di pensare che dopo un paio d'anni che fai teatro in dialetto sei già arrivato, non si arriva mai, c'è sempre da imparare. Ora per raccontarti e per dirti per esempio io a settembre salirò a Bacoli, a Napoli, perché un calabrese che adesso è trasferito là e che fa teatro in vernacolo, ovviamente napoletano, mi ha chiesto una commedia che ho scritto e la rappresenteranno. Quindi manca anche questo circolo di opere, di collaborazione tra compagnie che fanno il dialetto. Magari c'è qualcuno che pensa di ritirare, di prendere delle commedie che hanno altro dialetto e trasformarle nel dialetto nostro, quando invece ci sono tanti e tantissimi illustri scrittori dialettali che hanno fatto delle opere nostre calabrese che potrebbero essere portate alla ribalta. Dopo un'estate meravigliosa, un successo dell'estate con tutto quello che abbiamo avuto il mercato della Badia, la Sagra Davina eccetera, ecco questo qua corona l'estate bivongese. Sì certamente, noi come associazione bivongese naturalmente operiamo affinché tutto quello che viene fatto in questo paese abbia un risvolto di positività, un risvolto di far crescere quella che sia la proposta turistica e in ogni caso, come hai detto tu Ugo, la proposta culturale, dalla quale noi non possiamo esimerci essendo un'associazione teatrale. Il mese di settembre organizzeremo anche una serata dal titolo Muri di poesie, dove praticamente parleremo di un lavoro fatto all'interno del centro storico con la fissione di pannelli in ceramica e con dei testi di poesie di autori biongesi. Per l'agenda, questa sera a partire dalle ore 21 e 15, Roccella Jazz Festival Teatro al Castello Tributo a Rino Gaetano in diretta di Bus e Telemia. Da oggi, giovedì 24, in anteprima nazionale al Cinemateatro Nuovo di Siderno, il film Cattivissimo me 3, con proiezioni alle ore 16, ore 18, 20 e 22. Venerdì 25 e domani all'Ocri, ore 22 in Piazza Nosside, sul lungomare cittadino, si darà un incontro pubblico su progetto Locri 2018. Sabato 26, ore 18, a Locri, con partenza da Via Oliverio, si svolgerà un corteo di protesta dei lavoratori di Colle in Collo Croi a rischio licenziamento, che manifesteranno per il diritto al lavoro. Palio del Ciuccio torna anche quest'anno, in quale giornate? 1, 2 e 3 di settembre, all'agriturismo Fassi di Guardavalle. E poi, non scordiamoci di Caolonia Trantella Festival, dal 26 al 29 di agosto. Quindi sta per partire anche questa tradizionale manifestazione caoloniese. Abbiamo quasi finito, ci rimangono poche cose, intanto i titoli delle principali testate calabresi. Previsioni per oggi, al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse, in montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse, in montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. E' tutto per questo giornale, grazie per la cortesa attenzione. Buonestate ancora. Racket, siamo ancora molto omertosi. Sono i dati dell'ultima rilevazione Istat. Meteo, arriva il settimo, gran caldo. Allarme col diretti su uova contaminate e fobia nazionale. Operazione anti-bracconaggio, sequestrati 570 volatili. La canzone persiso alla colonna sonora del festival del jazz di Roccella. Termini 680 volatili.